buongiorno a tutti per mandare in onda porta a porta e tutte le altre tutti altri telegiornali tutte le altre televisioni di approfondimento della rai e delle televisioni commerciali centinaia di giornalisti di produttori di tecnici di registi e quant'altro lavorano giorno e notte con la mascherina i guanti rispettando distanze sicurezza ma vanno avanti e questo succede in centinaia di migliaia di uffici e di fabbriche in tutta italia perché allora il parlamento deve lavorare soltanto una volta a settimana il parlamento è l'ospedale dell'italia l'italia già stava malissimo prima del coronavirus adesso è in terapia intensiva e quindi i suoi medici non possono andare a visitarlo soltanto una volta alla settimana perché casi sono due o il parlamento non serve e questo sarebbe terribile o il parlamento serve e non va a lavorare e questo ancora più grave